Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia. Parliamo delle ultime mosse di Viktor Orban, sì perché è al centro della politica europea in questi giorni, non solo perché l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea, ma per quello che sta portando avanti. Innanzitutto, in Europa Orban è promotore di un nuovo gruppo parlamentare europeo chiamatosi Patrioti, questo sta suscitando molta attenzione da parte di quel mondo di destra che è in fermento proprio per dare un nuovo assetto e un nuovo equilibrio a tutta l'Unione Europea. Vedremo come andrà il gruppo, vedremo poi quali saranno le nomine reali, finali del Parlamento Europeo a livello proprio di Unione Europea, vedremo che ruolo giocherà Orban. Assunta la presidenza di turno come Ungheria dell'Unione Europea, cosa ha fatto per prima cosa? È andato a Kiev, ha incontrato Zelensky, insomma lui vuole essere il motore della pace, ha chiesto a Zelensky sostanzialmente di trattare con la Russia. Ovviamente non conosciamo nel dettaglio quello che si sono detti, ma il punto fondamentale è che Orban appena è entrato in carica come presidenza di turno dell'Unione Europea ha voluto incontrare Zelensky per cercare di convincerlo a trattare con Putin. Ed ieri invece la notizia incredibile è che Orban andrà oggi da Putin per chiedere probabilmente la stessa cosa. E qui si apre un fronte un po' più largo, perché subito interviene Jean-Michel dicendo che Orban non parla a nome dell'Unione Europea e non ha alcun mandato. Resta il dato però politico. E poi mi chiedo e vi domando, ma come si fa a cercare la pace se nessuno si può sedere con Putin per cercare di convincerlo a sedersi a sua volta con Zelensky per avere una pace insomma in una regione che è al centro dell'Europa? Questa è la domanda che vi pongo, perché sembra che ci sia chi non vuole che nessuno possa trattare con Putin. Con Putin bisogna trattare se si vuole la pace e qualcuno dovrà pur iniziare. Vedremo se l'iniziativa di Orban porterà da qualche parte. Di sicuro in questo momento si è posto al centro della politica europea. Non solo perché è alla presidenza di turno dell'Unione stessa, ma per gli atti che sta portando avanti. Voi cosa ne pensate? Ha fatto bene Orban ad andare prima da Zelensky e poi da Putin per cercare la pace? Sta facendo male? E cosa pensate del suo nuovo Eurogruppo Patrioti potrà incidere veramente in questa Europa? Dite la vostra che io come al solito ho detto la mia e ci vediamo domani.